Benvenuti all'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 alle reali necessità del territorio. Per sopravvivere dobbiamo investire per ridurre l'impatto ambientale dei sistemi alimentari. Il cambiamento deve avvenire lungo l'intera catena alimentare e c'è poco tempo a disposizione. Spesso parlo di una corsa mondiale verso lo zero. In questo caso si tratterebbe di una corsa verso l'eccellenza, verso la creazione dei sistemi alimentari più sostenibili possibili. Sono certo che tutti voi studenti di questa università sarete in grado non solo di partecipare ma di contribuire alla nostra comune vittoria. Grazie.